Oggi è un giorno un po' speciale per te? Sì, un giorno che ho vinto, tre anni fa ho vinto la mia seconda gara qua, è passato un po' di tempo però comunque le emozioni sono ancora forti e mi fa piacere ritornare su questa salita. Speriamo sia un altro giornato fortunato anche se siamo con la tappa un po' diversa da quel giorno là e piana e poi salita secca fino al traguardo e sarà un po' diverso. Però speriamo in bene, insomma abbiamo comunque, personalmente proverò a vedere se riuscirò a inserirmi sulla fuga e se non ci sarò proverò a dare una mano al mio compagno Kroesvig. È possibile per tu oggi della fuga o lavoro per Steven Kroesvig? Partiamo davanti vedendo come si evolverà la gara. Diciamo che il percorso sembrerebbe adatto per un arrivo in gruppo compatto perché comunque l'etapa è molto breve quindi anche per un gruppo in seguire sarebbe più facile anche controllare i oggettivi. Vedremo, tra qualche ora sapremo qualcosa di più. Che pensi della salita d'Europa? Una salita dura? Una bella salita, non è impossibile, salita che va a tratti, tratti molto dura, tratti spiana, c'è modo anche di rifiatare. Una salita che personalmente mi piace, non è una salita impossibile, quindi comunque sembra una salita e quelli di classifica si danno molte battaglie. Grazie. Grazie.